Di tutto questo non c'è più niente, o forse qualcosa si indovina. C'è ancora qualche strada ciottolata in mezzo un'osteria. Qui diceva mio padre conveniva venirci col coltello. Eh sì, il naviglio è a due passi, la nebbia era più forte prima che lo coprissero. Ma quello che hanno fatto, distruggere le case, distruggere quartieri, qui e altrove, a cosa serve? Il male non era lì dentro, nelle scale, nei cortili, nei ballatoi. Lì semmai c'era umido, da prendersi un malanno. Se mio padre fosse vivo, chiederei anche a lui, ti sembra che serva? E il modo? A me sembra che il male non è mai nelle cose, gli direi.